C'è chi ha fatto gol con l'alanta? Non so, eh... Ah, sì, 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 sì. Mettilo questo, eh. Un po' di silenzio, eh, in serietà. Come sappiamo è tutto finto. Teo che cavallerà. 3, 2, 1... Panic. Eh... Bim, boom, panic. Teo Hernandez, la gioca gabbia. Può portare palla, gioca Calulu con passaggio forte. Calulu con la sua corsa. Calulu prova il cross. Calulu, Rafa. 1, 0. Me la vince. La merito tu, grazie. Grazie. 1, 0 per il me l'ha segnato Leao. Mettanza di Rafa. Vai Tonali. Teo. Teo Tonali. Ah, buah, bene. Grande passaggio per Teo che fa la... la sponda per il mio amico Brahim che era al momento giusto nel posto giusto. Bravo. Mi piace la celebrazione. Oh, oh, oh. E' libero, mette la palla in mezzo per Tonali, però a Cerbilo anticipa Ibra. Sponda di testa Tonali il predestinato. Grandissimo gol. Il Milan vince. Per fortuna c'ha la termica, non si vede il fisico. Vai a esultare sotto i tifosi. Bravo Sam, grazie. Grazie per lo scudetto Sam. Teo. Teo, bravo. Teo ho sbagliato il passaggio, ma va bene. Tu sei qua. Sì, qua, di là. Ok. Vieni, eh. Messia, Messia me. Vedo a Oli, Oli sponda. Sponda. Perché sì, lo so che Isma piace quando la palla si alza un po'. Allora è per fare voler. Tu sei troppo intelligente. No, ho fatto con il destro, allora sarà perché non era perfetto. Ma per lui, top. È perfetto, certo. È, grande gol di Isma. Alex, cross per il secondo pallo e Teo. Teo, non lo so cosa fa qua. Qua. Terzino destro. Oh. Mano? No, ma dell'altro destro. Mano del difensore. Sì, del difensore. Un po'. Ah, sì. Ma una bella sponda però. Bravo. Sì, sì. Uno contro uno contro Barak. Imprendibile. La faccia di Aula. Mette dentro. Quasi cade, ma fa un grande gol. Il merito, oltre ad essere di rapido sviluppo. Doppietta di Sandro, grandissimo movimento. Tu, Oli. Grazie, grazie. Grandissimo movimento. Grandissimo movimento. Linguaccia verso spizzi. Era uno spizzi in grillo formidabile. Allora. Andate Leao, con che semplicità raggiunge il 45 km. Un motorino. Olivier, mamma mia che movimento. Pam, è caldo. È molto difficile. È molto. Sembrano semplici. Sembrano facili. Ma quando si dice... Cala, cala. Girù. Girù si è girato? Sì, si è girato. Si è girato, dai. Si è girato, dai. Si è girato, dai. Che emozione pazzesca. Dai, la lingua è matta. E penso che Girù ancora si è girato. Che cosa fa in vista? Dai, dai. Non lo so. Lui ha fatto 100 metri in 8 secondi. Uh! Teo! Teo che cavalla! Il cavallo! Il cavallo! Il cavallo! Che posso dire questo gol? Teo, Teo. Teo prende balla. Un'altra... Ancora Teo. Ancora Teo. E dopo la lucidità per finire bene. Tu non puoi vedere anche la stanchezza sulla sua fascia. Ah! Così. Ancora. Está... Está in corsa. Si, si, si. Penso che viene a Austria adesso. Si, si. Arriva, arriva. Si, arriva. Ahahah. Che cosa? Che cosa? Chi- 저 che cosa? Che cosa cantare? Chi- le carne gli sta con долгоmazze. Chi- le carne. Oh. Che cosa le carne.